Ciao a tutti, mi chiamo Maria Elena Marchetti, sono archeologa, guida turistica di Roma e della Regione Lazio. Partecipo oggi a questa splendida iniziativa Cultura in Balcone e direttamente dal balcone della mia casa oggi racconterò qualcosa di importante legato al territorio e al quartiere in cui abito. Mi trovo all'interno del quadrante orientale della città di Roma, sesto municipio. Il mio quartiere si chiama Ponte di Nona Nuovo ed è diventato famosissimo per la presenza di un grande centro commerciale. Pochi però sanno che ad appena 5 km di distanza si trova un importantissimo sito archeologico. Si tratta della sede di un'antichissima città dell'Azium Vetus chiamata Gabi. Gabi sarebbe stata fondata da genti latine provenienti da Alba Longa. Gabi sarebbe il luogo dove Romolo e Remo sarebbero stati educati ed avrebbero ricevuto i primi elementi della scrittura. Il periodo di massimo splendore è datato in epoca arcaica, quando Gabi insieme ad altri insediamenti dislocati nelle immediate vicinanze si trova a controllare importanti direttrici viarie e di scambi commerciali che permettevano il passaggio di genti provenienti dall'Etruria e dirette in Campania e l'attraversamento della penisola italica dal versante ebriatico a quello tirrenico. Ovviamente Gabi dovette fare i conti con la nascente Roma, Roma che conquisterà definitivamente Gabi nel VI secolo a.C. Tre secoli più tardi la città e il territorio vengono completamente distrutti dal passaggio delle truppe di Annibali che proveniente da Tuscolum si stava dirigendo verso Roma. Le ultime informazioni sono datate al I secolo a.C., quando la città viene ormai descritta come parzialmente abbandonata e ricoperta di polvere. È possibile oggi visitare il sito archeologico dell'antica città di Gabi. Sono stati identificati alcuni settori, come per esempio l'antica Acropoli, dei tratti della via Premestina che attraversa il settore abitativo. rimangono grandi resti di un antico luogo di culto dedicato a Ginone Gabina e parti delle strutture murarie che proteggevano e circondavano la città realizzate in opera quadrata di Tufo dell'Aniene. L'ultima più recente scoperta è quella che ha visto il rinvenimento di una casa arcaica. Si tratta di una scoperta eccezionale, un unico sul territorio italiano, in quanto l'alzato è conservato fino a circa due metri dal piano di Calpestio. Probabilmente è la sede e l'abitazione in cui risiedevano i rex della città, forse legati da legami parentelari con i tarquini della città di Rome. Vorrei ultimare la mia piccola perla di storia facendo qualche accenno alla necropoli del Fosso dell'Osa, rinvenuta dagli archeologi. Si tratta del cimitero dove probabilmente gli abitanti di Gabi venivano sepolti. Gli archeologi hanno trovato circa 800 tombe con il corredo appartenente al defunto e fra i rinvenimenti più importanti l'iscrizione latina più antica al mondo attestata in questa lingua. E con questo concludo la mia visita virtuale. Spero che vi sia piaciuta e spero un giorno di poter visitare insieme a tutti voi l'antico sito della città di Gabi. A presto!